Buonasera ragazzi da Enjoy Viaticus, oggi nuovo video, nuova storia, ci troviamo a Malta e vi farò una piccola descrizione di dove ci troviamo. Allora siamo a Malta, è un'isola situata sul mar Mediterraneo, qui ci troviamo tra la Sud Tunisia e la Sicilia. Malta è piena, pienissima anzi, di ricchezze, se voi calcolate era stata all'epoca vissuta dai Fenici, poi più avanti conquistata dai Romani e subito dopo diventata una colonia africanica inglese e poi diventata comunque una città indipendente. Infatti come immaginate la lingua che si parla qui è il maltese, abbiamo l'inglese e anche l'italiano, anche se nel 1934 l'italiano era una delle prime lingue ufficiali, pensate voi. Il maltese è una lingua araba ebraica e anche un patrimonio dell'UNESCO. Malta non è grandissima, qui parliamo di una superficie di 316 km quadrati, è composta da tre isole e troviamo Malta, Gozo e Comino. La vita a Malta non è costosissima, se la possiamo paragonare più o meno a quella dell'Italia ed è veramente facile muoversi all'interno della città con il pianofus. Ci sono tantissime cose da vedere, come prima abbiamo la Valletta che è la capitale e abbiamo anche Emdina, che è uno dei video che vi abbiamo mostrato in precedenza, che era comunque la prima capitale di Malta. Spero rimarrete aggiornati con voi perché noi mostriamo altre bellissime cose di questa piccola e bellissima città, anche perché è una delle città più piccole in tutta l'Europa. Grazie da Enjoy Viaticus e rimaniamo connessi. Un abbraccio.